Aprofitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti, soluzioni SRL a Sandona di Piave, contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Il tempo cambia nuovamente, una perturbazione di origine artica si avvicina all'Italia, tuttavia sabato 4 dicembre sarà ancora buono, peggiorerà poi domenica. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, in pianura cielo poco nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Stesso contesto anche sulle zone montane. Precipitazioni assenti, dalla serata però saranno probabili deboli piovaschi a carattere sparso. Neve sulle Dolomiti oltre i 400-700 metri. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra meno 1 e 4 gradi, massime tra i 3 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento in mattinata, più nubi poi a seguire e in serata avremo qualche rovescio. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole in giornata. Il cielo si farà però via via più nuvoloso e nella notte avremo le prime piogge. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a Sandona di Piave, contattaci per un preventivo gratuito. Grazie a tutti.